Ok Ferro, vedo tutto quello che ci serve, direi che possiamo andare a dormire e poi domani pensiamo a craftare un po' di cose Forza, forza, prima che arrivino un po' di nuovo Perfetto, buonanotte Stef Buonanotte a tutti Vere, sto ancora dormendo Stef O c'è qualcosa che non va? Ma hai fatto qualcosa da sonnambulo a casa nostra? Ti sei divertito a ripitturare le pareti? Ferro, fino a prova contraria questo blocco nemmeno esiste, quindi mi spieghi come ci sarei dovuto riuscire Però io ho un appunto da fare, questa parete è diventata meravigliosa Sì, ma il resto fa schifo No, io questa la lascerei molto volentieri così, guarda che bella Cos'è? Ma che effetto fa? Ma stiamo impazziti No, aspetta Cos'era? Ferro mi ha dato delle porte Come ti ha dato delle porte? Però mi dice che sono dei libri Ok Beh, perché qui di certo non c'erano delle porte Stef Allora, signori, ricapitoliamo Abbiamo un blocco a forma di torta Cioè, anzi no, un blocco con la torta dentro Esatto Che se colpisco cambia costantemente Se lo rompo diventa delle porte ma sono dei libri Ok Beh, perché in effetti lì a casa nostra c'era una libreria Quindi non capisco Ah, queste sono le porte di casa Buongiorno Ok 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 Sono molto confusa adesso Stef Questa è l'acqua Quale? Dove sei finito? Cosa mi dovrebbe significare? Questa è acqua Questa è acqua Questa è acqua E confermo E quello sotto cosa dovrebbe essere? Qua c'è marmo Che sarà tutto Questa è sabbia Invece vedo marmo Ok Questa è acqua Bella la nave pirata Devo dire che è molto fashion Quella mi piace È diventata molto colorata Però è bella È bella davvero così Allora Ferri abbiamo un problema oggi Stef, sono tanto confusa Non ci sto a capire nulla Vedi quello che ho in mano? Che cos'è? È un piccone No Hai una corda Questa è un'acetta No, è impossibile Questo è del grano No, è impossibile Stef Questo è della legna E questo è cobblestone Ok Mi sento ancora più confusa in questo momento Stef Ferri, ogni blocco che rompo fa degli effetti strani Guarda Vedi? Perché sembra Non lo so Perché non sono normali questi blocchi Quindi secondo me ci sta che poi vedi cose strane Perché forse non dovremmo neanche toccarli Ma molto strano Allora, ok, muoviamoci Ma questo è grano, davvero? Fammi vedere No 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 E quindi questo è grass Ma adesso perché vedo marmo? No Mi ha dato un'anguria Guarda Rompi Da dove? Qua mi danno le angurie Qualche cosa se mi dà delle angurie? Sono semini di grano Non puoi mangiarli Ma hanno forma di angurie Ma non puoi mangiarli Però aspetta Stef Sì Se io vedo delle angurie Ma tu mi dici che sono semini di grano A cosa devo credere? Non lo so A quello che vedo A quello che sento? A quello che percepisci Io percepisco che è un'anguria Quindi quando avrò fame Proverò a mangiarla Prova a mangiarla Allora, ok Va benissimo così Allora, Fede Che cavolo è questo blocco? Cos'è? Guarda che bello Che bello Che cos'è? È una specie di torta Dandelion Ah, era un fiore Esatto Adesso invece è diventato Un fiore di torta Beh, i fiori di torta Sono bellissimi Questa quindi è acqua Dobbiamo ricordarci Aspetta Fede Ma qua non c'era il po? No Questo era il sentiero Del nostro villaggio Ah, ok Allora Guarda qua Dove? Che meraviglia Ma che cavolo è questo? Questo è grano Secondo me Potato Però in realtà è una ruota Guarda come cambia il pavimento Pronta? Vai, saltaci Vedi? Oh mio Dio E queste sono patate Patate e ruota Patate e ruota Allora, andiamo a vedere il post-ef Ok Vabbè Dov'era? Perché io non riesco Allora, questo era il centro del villaggio Perché riconosco la forma del fienile Anche se non è più un fienile Però comunque la forma è quella Ferre è anche il fienile No, vabbè Guarda che bella la torre Ferre, la torre è bellissima Ma la torre è meravigliosa Io la lascerai così Eh, questa ti dico la verità La lascerai così Allora, il po' è questo Ah, eccolo È irriconoscibile Ciao po' Hai avuto un cambiamento pure tu Ma il grano è rimasto grano Che cos'è questa cosa? Ferre Questo È un mostro Ma guarda Ciao Cos'è? Non lo so Cos'è? Erano girasoli Ma in realtà adesso è È un blocco con della cobblestone sotto Un barile sopra E poi c'è pure una rotaia di redstone Che fa tipo da cappello Ma è tutto normale Che fantasia Almeno gli animali sembrano normali Infatti, almeno loro Vabbè, come noi Noi siamo rimasti normali No, Ferre seguimi immediatamente Ok Cos'hanno gli alberi? No Hanno avuto un incidente Ma sono diventati bruttissimi Mamma mia Hanno diventati davvero brutti Guarda l'effetto che fa Prendi una foglia Ok, sta rotto ovviamente Questo è birch Oh, guarda Non ci credo Birch Ok Ok Non so bene cosa dire, Steph Perché è tutto troppo strano Questo blocco Posso dirti che E se lo trasformo Vuoi vedere il birch planks? Guarda Questo Questo è legna L'ho però fatto pure io Legna Bella è la tua ascia poi Molto molto bella Grazie Steph Guarda invece gli alberi della palude Perché qui c'era la palude Me lo ricordo, eh Ma Questi sono banner? Ma non lo so No Probabilmente sono liane Perché Certo, sono liane Sono liane della palude, Steph Ovvio Sì, perché non ce le fa prendere Però sembrano dei banner Ok E oltretutto gli alberi Sembrano fatti di cioccolato Un po' scaduto Però non ti sembra un po' cioccolato Stato Guarda i funghi Sono questi No, vabbè Ok Ok Steph, mi si sta friggendo il cervello Ma che è? Comunque ti confermo di non poter mangiare l'anguria Però le patate ruota, sì Le ruote Buone le ruote Un po' dure, Steph Ho trovato qualcosa di bellissimo Allora Sì, purtroppo le angurie neanche io Le butto Questa qua È la nostra nuova crafting table No Dimmi che non è troppo carina Però è carina Vero? Guarda, guarda Ha un sacco di facce Allora, poi creiamo i bastoncini No No, anche il crafting è sballato, Steph No, ma che No, ma che Allora Facciamo così Anzi, facciamo così No Allora Ti faccio vedere È un po' psichedelico Questa è una spada Bella Sì, bella Chi può dire che quella non è una spada, Steph Aspetta che mangio delle ruote Dì a una bussola che in realtà è una spada E lei crederà davvero di essere una spada Allora Vediamo un po' Maialino Vediamo se è davvero una spada Io non ci capisco più nulla Allora, signora pecora Abbiamo bisogno anche della lana Aspetta, no Che cavolo ha dato Questo No, che cos'è? Che cos'è, Steph? Allora E che lo vedo, fammi vedere Allora Questa è lana Ah Bello Spiegami questo nuovo blocco Non lo so, ma hai visto Cos'è? Va bene E invece questa è la carne Buona? Sì Sì, sì, sì Non vedo l'ora di mangiarla Allora Vediamo Ma io posso creare Teoricamente sì È difficilissimo giocare così, fare Eh, lo so Allora, cutting table Cobblestone È tipo Sì Cuocere la carne? Eh, quello che so Provando a fare Eh Questa è una fornace Uh, però è carina Dovo dire che crafting e fornace Sono davvero carine Dovrebbero tenerle così Allora, qual è la legna? Ah, questa Questo scuro era la legna, Steph È metto a cuocere L'ho messo a cuocere Guarda, vedi che c'è il focherello Da questo blocco adesso Vabbè, non ha senso di esiste Io mi rifiuto di accettare questa cosa Allora, vediamo come risulta la carne cotta Vabbè, almeno è cibo Sono curiosa No, no, almeno è cibo Guarda Ma cos'è? Ah, ok, ok, ok È una torta di mele, no? Eh, no, non mi ricordo di qual è Però Sì, dovrebbe essere una torta di mele Però intanto non è quella giusta Allora, invece vediamo O forse di zucca Non mi ricordo Cucinando la bussola Cosa succede? Sono molto curioso anche di questo Vai Forza, 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 forza Vediamo, vediamo, vediamo Eh, beh, sì Famosissima Vero? Sì, sì, sì Buona sta carne Come può uno giocare Cosa dire che è davvero matto questo mondo, eh? Allora, recuperiamoci tutto Allora, questo è il piccone Ahà Questa è l'accetta Ok, mamma mia Sto iniziando ad avere difficoltà Cioè, se tipo io adesso Devo ricordarmi di mangiare Devo avere Allora Spada al primo slot Piccone Accetta Carne Altra carne E legna Che posso trasformare No, vabbè, Fere Guarda che tilt Questo è il planks E sembra un log No Dimmi la coincidenza che potesse capitare Eh, infatti Allora Io sono molto, 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 molto Confusa, Stefano Che solo a sentirti parlare Non ci capisco niente Sai cosa mi viene in mente di fare, Fere? Vai, proponi Torniamo a casa Proviamo a dormire di nuovo E speriamo che questo mondo cambi Eh, secondo me no Anche secondo me Ormai è andato, Stef Anche secondo me Arrangiti, sopravvivi qui per sempre Però preferirei comunque dormire per sempre Piuttosto che vivere qua Allora, devo mangiare Quindi proviamo a mangiare uno di questi Ok, tutto liscio, ha funzionato Va bene Allora Guarda questa zona Questa strana Eh, infatti Cioè, che cos'è? Ah, perché c'è l'acqua C'è l'acqua Che è totalmente trasparente Quindi fa un effetto stranissimo Vabbè Io non so più veramente Anche i maialini sono confusi Guardali Guardali in giro Non capiscono più nulla Anche loro non sanno più come muoversi Io non riconosco poi le zone I biomi Non ci capisco nulla È impossibile Mannaggia Allora, io devo dire Però almeno la torre è gigante E su quella non ti puoi sbagliare Ma poi è bellissima Cioè, la torre è uscita Veramente splendida Non so che cos'è Secondo me è la più bella La cosa più bella tra alberi Cos'è quello in realtà? Vabbè, penso sia pietra Era fatta di pietra Eh, infatti era fatta di pietra No, vabbè Le scale le sembrano d'oro È la campana Dov'è? Non la vedi? No Fede, guarda In mezzo al d'orso Io stavo cercando tipo sui muri No, non ci credo È un blocco di campana, Steph No, vabbè E poi questa che cavolo è? Ma non lo so Guarda qui Guarda anche questa Queste sono le torce No, la torcia, no Questa è la torcia No, vabbè È bruttissima, raga Ma che è questo? Guarda Veramente, veramente orribile Oh, mamma mia Ragazzi, fermiamo Io in questo mondo Non ci capisco Veramente più nulla È veramente strano Giocare così Spero che si sistemerà da solo Perché io non ho soluzione Però veramente, veramente strano Speriamo che il video vi sia piaciuto Sotto con poi altri video Iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao, ciao Ciao